Mr. Taurino, tre settimane di ritiro, una al Città degli Olivi, due in Nenemarche, oggi un 3-0. Vogliamo tracciare un bilancio? Il bilancio è positivo soprattutto per la dedizione che hanno messo i ragazzi in questi 20 giorni, devo dire la verità. Non si sono risparmiati, abbiamo fatto fatica come è normale che sia in questo periodo. Questo è il momento di fare fatica, è il momento di prepararsi per una stagione lunga, complessa, difficile, quindi se si apprende già da subito che bisogna fare fatica, poi quando arriveranno i momenti della fatica in campionato riusciremo a tenere botta. Sono contento per l'atteggiamento che hanno messo i ragazzi, il risultato conta relativamente, è normale che fa piacere vincere, è normale che fa piacere non prendere gol. Abbiamo fatto delle buone cose, tante altre sono da migliorare, le vedremo, abbiamo acquisito il video della partita, quindi ci sarà modo di studiare, di vedere dove si sono fatte le cose per bene e dove invece c'è ancora tanto da migliorare. Però una cosa mi dà una buona speranza, mi rende fiducioso, quello di aver visto una squadra che al di là degli errori tecnici, tattici, che quelli si possono limare, una squadra che aveva il piglio giusto. Ho visto una squadra battagliera che quando c'era da giocare a calcio ha giocato a calcio, quando c'era da buttare un pallone in tribuna l'ha buttato, che ha fatto una partita seria, una partita vera, come se fosse campionato. E quindi da questo punto di vista, dal punto di vista mentale, devo dire che i ragazzi mi sono piaciuto tanto, sia il primo che il secondo tempo, quando poi abbiamo cambiato un po' tutti. Quindi abbiamo tenuto sempre il campo con grande applicazione, forse il secondo tempo ci siamo schiacciati un po' di più, però va bene così, è importante anche quello. Siamo stati più bassi ma abbiamo difeso bene senza prendere gol, quindi anche quello è un buon segnale per adesso. Fidelisandria, Bitonto. Sarà subito un bel test, un bel derby contro una piazza importante, blasonata, una squadra costruita bene, anche se ha cambiato gestione tecnica, è passato da un giovane che aveva fatto molto bene quale potenza, però poi è andato a prendere un allenatore di sicuro affidamento come Favarin, un allenatore che ha vinto campionati importanti. Quindi sicuramente troveremo una squadra guerrita, Arcigna, perché poi Favarin è un allenatore anche molto bravo nel trasmettere la squadra di un certo carattere, le sue squadre sono sempre state toste, l'ho già affrontato in Serie C quando facevo il secondo alla Virtus, quindi so che è un bravissimo allenatore, un allenatore che ha una tempra importante, quindi ci prepareremo ad affrontare sicuramente una partita tosta. Attivamente perdere tra zero non è bello, sicuramente c'è poca lucidità in questo periodo qua dopo tre settimane di lavoro, ma questo non vuole essere un alibi, una scusante. Abbiamo incontrato una squadra tosta, secondo me che sta facendo bene da diversi anni nel campionato di Serie D, Girone H, che è difficilissimo. Noi dobbiamo continuare a lavorare, è normale che quando ci sarà più lucidità, quando inizieremo a smaltire un po' i carichi di lavoro, la squadra potrebbe diventare un pochino più brillante, più attenta, però è stato un test importante, sicuramente ci fa capire dove migliorare. L'importante è che, io dico sempre che in ritiro la priorità è quello che i giocatori non si debbano fare male, debbano raggiungere una condizione fisica diciamo così al 70-80% per poi dopo Ferragosto trovare la giusta condizione per affrontare le partite che contano. Ministro, il primo di settembre comincia il campionato, l'obiettivo dell'area canatese quest'anno? La reganatese l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quest'anno cerchiamo di fare altrettanto, cercando di alzare un pochino l'asticella, però sappiamo benissimo che non è facile per tutti perché ci sono sempre quelle 4-5 squadre che puntano a vincere, però io sono contento della mia squadra, sono convinto che quando saremo tutti al top potremo fare la nostra figura in modo eccellente sia per la società che è una società molto professionale che per i giocatori che hanno sempre dimostrato il loro valore. Grazie